Tutto tace ormai sotto questo cielo E' l'ora per me di lasciarvi Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia Che il cuore mio spezzerà per amore Solo ancora un po' E non mi vedrete Ma ritornerò Non temete Voi mai soli no Lo Spirito Consolatore vi darà La verità, Lui sarà vostra forza Sono nel Padre, voi in me rimanete in me Come dei tracci alla vite che la linfa dà E non vi lascerò mai soli Se il mondo vi odierà Sarò sostegno per il regno che il Padre dà Ed è già dentro voi Questo pane è il mio corpo offerto Io lo dono a voi, miei fratelli Questo è il calice che fa nuova l'alleanza Fra voi è il Padre Dio Nel sangue mio questo è mia memoria Sarò per sempre con voi Nelle avversità Sarà l'amore del Padre che vi guiderà E non vi lascerò più soli Se il mondo vi odierà Sarò sostegno per il regno che il Padre dà Ed è già dentro voi Io vi ho scelti per vivere D'amore e verità Questo è il mio comandamento Amore e libertà E da questo sapranno che Siete voi i miei fratelli Amore più grande al mondo non c'è Sarà l'amore del Padre che vi guiderà E non ci lascerà E non ci lascerai più soli Se il mondo ci odierà Se il mondo ci odierà Sarai sostegno per il regno che il Padre dà Ed è già dentro noi Dentro voi Dentro voi Non ci lascerà Non ci lascerai più valente Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Carissimi amici e amiche delle pagine Facebook, della Regione della Pace, dell'Associazione del Storico Corre di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera, come vi avevo già annunciato e come di solito facciamo, farò una catechesi, una splendida figura di beata, di santa, che è la beata Alixandrina Madia da Costa, una grande mistica alla quale Gesù ha dato grandi rivelazioni. Una donna di grande sofferenza è stata chiamata da Gesù alla riparazione, alla preghiera, all'offerta totale di se stessa sulla via del Calvario, abbracciando la sua croce e partecipando, così come le ha chiesto Gesù, alla redenzione dell'umanità. Saluto tutti voi che siete in diretta, vi ricordo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook. Il giovedì, come sapete, è dedicato all'Eucaristia o al sacerdozio o a entrambi, e le rivelazioni che vedremo questa sera saranno proprio dedicate alla presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e in modo particolare nella presenza eucaristica di Cristo in tutti i tabernacoli del mondo. Vedremo con quali parole il Signore si rivolgerà alla sua serva affidata e per mezzo di lei a tutta la Chiesa e all'intera umanità. Leggo qualcosa sulla sua biografia. Nasce a Balasar, Portogallo, il 3 marzo 1904, muore, sempre a Balasar, il 13 ottobre 1955. Quindi una vita non molto lunga, ma neanche troppo breve. Laica portoghese, all'età di 14 anni, si gettò da una finestra per difendere la sua verginità. Riportò gravi danni che, un po' alla volta, la resero completamente paralizzata. Abbracciò la sua croce e in vari modi partecipò alla passione di Gesù. Dal suo letto svolse un prezioso apostolato di preghiera e di consiglio, a favore dei numerosi visitatori, attratti dalle sue virtù e carismi straordinari, che esercitò nell'obbedienza alle autorità ecclesiastiche. Il decreto sulle sue virtù eroiche è stato emesso nel 1995. Adesso leggiamo questo scritto, molto bello, in cui Gesù rivela alcune verità fondamentali sulla sua presenza eucaristica in tutti i tabernacoli. Richieste e promesse fatte da Gesù alla Beata L'Eccandina Maria d'Acosta Vediamo cosa le dice Ecco, qual è la presenza più straordinaria di Dio? In mezzo a noi La grande profezia del profeta Isaia, nei guardi del Cristo, era questa Sarà chiamato l'Emmanuele Che significa il Dio con noi E Gesù ha promesso, prima di salire al cielo, sul monte dell'ascensione Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo E' il modo più straordinario, divino, di realizzare questa sua presenza in mezzo a noi Qual è stato? L'Eucaristia Dove Egli ha lasciato se stesso il suo sacrificio di amore Il suo corpo, il suo sangue Dove Egli è realmente, sostanzialmente, veramente presente In corpo, sangue, anima e divinità I tabernacoli dovrebbero essere circondati continuamente da anime adoratrici e riparatrici Al contrario, Gesù si lamenta Profondamente adorato E sono tanti, tanti e tanti i tabernacoli in cui è lasciato solo Per giorni e giorni le anime non lo visitano, non lo amano Ecco noi, carissimi, carissime Dobbiamo andare spesso nelle chiese A consolare Gesù A stare ai piedi del tabernacolo A diffondere il nostro cuore dinanzi a Lui A implorare la sua grazia, le sue grazie A ricevere la sua infinita misericordia A crescere spiritualmente E a nutrirci Anche con la sola adorazione e contemplazione Attraverso La sua presenza eucaristica Quindi, carissimi Andiamo fisicamente nelle chiese Ma se siamo impediti A poter accedervi fisicamente Nessuno può impedirci Di andarvi spiritualmente Possiamo recarci con le ali del cuore Ai piedi del tabernacolo Possiamo prostrarci dinanzi a Lui Lo possiamo adorare Glorificare Esaltare Implorare E sicuramente Il Signore Terrà questa adorazione spirituale Come una vera e propria visita Fatta Come se noi fossimo Li presenti Con il nostro corpo Perché dinanzi a Dio Ciò che conta È il cuore Ciò che conta È la volontà È lo spirito E tante volte E tante volte oggi Non si ha la possibilità Di stare Ai piedi del tabernacolo Perché Tante porte di chiese Sono chiuse Ma noi possiamo Travalicare queste porte Così come Cristo è entrato A porte chiuse Nel tabernacolo Nel cenacolo Ma Lui vi è entrato Col suo corpo glorioso Noi possiamo entrare Nelle chiese Con il nostro spirito Con il nostro cuore Ecco allora Visitiamo Gesù Tutte le sere Prima di andare a dormire Quindi rocchiatevi Ai piedi del vostro letto E mentalmente Con la volontà Con lo spirito Con il cuore Andate dinanzi Al tabernacolo Della vostra chiesa Dell'oratorio Che vi è Più congeniale Di quella cappella Abbandonata Dove nessuno Va a visitare il Signore Di quel santuario Che vi piace tanto E lì adorate Gesù E sarà una vera e propria Adorazione Fatta Al Santissimo Sacramento Però Se ne avete la possibilità Arricatevi Fisicamente Nelle chiese E chiedete Che ci sia questa possibilità Dove ciò non avviene Che sia ben predicata E ben propagata La devozione Ai tabernacoli Perché non sono solo coloro Che non vogliono credere Alla mia esistenza Nel Santissimo Sacramento Ma sono tanti Tanti coloro Che entrano Nelle chiese E si fermano là Senza salutarmi Non pensano A me Neppure Un momento E' vero Basta Fare attenzione All'atteggiamento Esteriore Delle persone Che entrano in chiesa Quando entrano Alcuni neanche fanno Il segno della croce O se lo fanno Lo fanno in modo sbadato Senza attenzione Senza amore Non guardano subito Al punto focale Di tutta la chiesa Al cuore Della chiesa Che è il tabernacolo Non si inginocchiano Neanche quando salgono Sul presbiterio Dinanzi all'altare Non fanno in chini Sono Freddi Insensibili Alla presenza eucaristica Di Cristo Che sia ben Predicata E ben Propagata La devozione Ai tabernacoli Dice Cristo Perché non sono solo Coloro che non vogliono Credere Alla mia esistenza Nel santissimo sacramento Che non dà nessuna attenzione Chiaramente Ma sono tanti Tanti Coloro che entrano Nelle chiese E si fermano là Senza salutarmi Non pensano a me Neppure Un momento Quale tristezza Carissimi fratelli Sorelle Oppure Vedere i cristiani Che passano Dinanzi alle chiese E non si fermano più Per un atto Di adorazione Non fanno il segno Della croce Non pensano A chi li guarda Da quella Prigione Dorata Che è il tabernacolo Dove il figlio di Dio Si è fatto Prigioniero Di amore Per noi Ciò che mi portò Nelle prigioni I tabernacoli L'amore E per tanti Perché cosa Non credono Alla mia esistenza Non credono Che io abito là Bestemmiano Contro di me Altri credono Non mi amano E non mi fanno visita Vivono Come se io Non fossi presente Ecco dunque La più grave crisi Del nostro tempo La più grande crisi Dell'Occidente Non è quella economica Non è neanche quella politica E neanche quella sociale Neanche quella familiare Che è pure una gravissima E spaventosa crisi La più grande crisi Del nostro tempo E la crisi spirituale La mancanza E la perdita Della fede L'uomo vive Come un animale Destinato Semplicemente A ritornare Nella polvere E si dimentica Che ha un creatore Si dimentica Che ha un redentore Si dimentica Di avere in mezzo a sé Il figlio di Dio Il figlio di Dio Fatto uomo Fatto pane Nel sacramento Eucaristico E da questa crisi Di bramosia Di rapina Di egoismo Di vanità Di lussuria Di invidia Di violenza Si snatura Quasi totalmente Fino a diventare Una bestia diabolica Ed è quello che dicono Tanti mistici Che hanno visto Come si trasformano Orribilmente Le anime Che vanno All'inferno E' terribile questo Mentre al contrario Le anime eucaristiche Le anime che vanno spesso A far vista Di Gesù eucaristico Che si prostrano Ai suoi piedi Che lo adorano Le cosiddette Lampade viventi Di cui sono Pochissime Oggi viventi Sono anime Risplendenti Di luce Risplendenti Di pace Colme di amore E di speranza Di fede E di carità La loro vita Sarà coronata Dalla gloria Tant'è che i mistici Dicono che appunto Queste anime Adoratrici E riparatrici Che sono spesso Dinanzi Al Santissimo Sacramento Risplendono Di una luce Particolarissima Sia qui sulla terra Sia quando saranno In Cielo Lontano Lontano dal cielo Lontano da Gesù Sono tutti coloro Che sono lontani Dal tabernacolo O se fosse ben compreso Il tabernacolo Dunque Chi è vicino Al tabernacolo È vicino A Gesù È vicino Al cielo Al paradiso Chi è lontano Dal tabernacolo È lontano Da Gesù È lontano Dal cielo Allora Qual è La prima Riforma Della pastorale Che dobbiamo fare Propagare L'adorazione Di Cristo E i piedi Del tabernacolo È meglio Ancora Quando egli Viene solennamente Esposto Sull'altare Un pastore Che non comprendesse Questo Inevitabilmente Potrebbe fare Tutta l'attività Sociale Che vuole Ma andrebbe Verso Un fallimento Di tutte Le sue Attività Un sacerdote Che non pone Al centro Della sua vita Sacerdotale Gesù Eucaristico La Santa Messa L'adorazione E la propagazione Del culto Di adorazione Del Santissimo Sacramento È un sacerdote Fallito Perché Noi sacerdoti Siamo Ordinati Consacrati Principalmente Per il sacrificio Eucaristico Per rendere presente Gesù Su tutti L'altare del mondo Per piegare Le ginocchia Dinanzi a Lui Insegnare Al popolo Di Dio A riconoscere Il suo Salvatore Così come I magi Giunti Dinanzi al bambino Di Betlemme Si prostrarono E lo adoravano O se fosse ben compreso Il tabernacolo Il tabernacolo È la vita L'amore È la gioia È la pace Il tabernacolo Il tabernacolo È il luogo di dolore Di offese Di sofferenza Il tabernacolo È disprezzato Il Gesù del tabernacolo Non è compreso È Gesù Abbandonato Nel tabernacolo Gesù ancora una volta grida Non tanto Dio mio Dio mio Ma grida Popolo mio Popolo mio Perché Mi hai abbandonato Dimmi In che cosa Ti ho offeso Perché Sei così freddo Nei miei riguardi Perché Hai indurito Il tuo cuore E non mi riconosci Più presente Sotto le sacre Specie Dell'Eucaristia Perché Pieghi Le tue ginocchia Dinanzi agli idoli E non Dinanzi a me Che sono Il tuo Dio Ecco Gesù dal tabernacolo Domanda Al suo popolo Il perché Di questa Spaventosa Orribile Sacrilega Mancanza Di amore Di adorazione Di attenzione Di riverenza Quando Egli ha fatto Tutto ciò Che ha potuto Per esaltare Noi Per ricolmare Noi miserabili Nella sua divina ricchezza Mi chiedano Tutto Quanto vogliono Stando la mia presenza Davanti al tabernacolo E da lì Che viene il rimedio Per tutti i mali Quante grazie Si possono ottenere Ai piedi Di tabernacoli Ai piedi Di Cristo E Eucaristia Si sostengono Le guarigioni Più strepitose Guarigioni Da tumori Dalla lebra Dall'ittus Da coma Dall'infarto Dalle malattie mortali Degenerative Dalla paralisi Dalla cicità Dalla sordità Da qualunque tipo di malattia Il braccio del Signore Non si è accorciato La sua divina onnipotenza Non è venuta a meno Con il tempo Il Cristo è lo stesso Ieri Oggi E sempre Allora se vuoi la grazia Vivi in grazia Osservando i comandamenti di Dio E poi recati Ai piedi di Gesù E Eucaristia Nel tabernacolo La otterrai Qualunque grazia Si avrai fede E perseveranza Fiducia Amore E adorazione E dinanzi al tabernacolo Non solo si ottengono Le grazie materiali Ma specialmente Quelle spirituali La conversione dei cuori L'accrescimento Della perfezione Il raggiungimento Della santità La forza Di affrontare Le croci E il calvario Della nostra vita Il superamento Di qualunque difficoltà La forza D'animo Il coraggio La speranza La fede E la carità La gloria del Pagliso Mi chiedano Tutto quanto vogliono Stando alla mia presenza Davanti al tabernacolo E da lì Che viene il rimedio Per tutti i mali O se i sacerdoti Comprendessero questo Loro che hanno La possibilità Di stare alla presenza Di Cristo In ogni istante Loro che possono Riverirlo Inginocchiandosi Ogni volta Che passano Dinanzi al Santissimo Sacramento Loro che possono Invocare La sua dimina misericordia La sua onnipotenza Di amore Il suo santo spirito O se i sacerdoti Comprendessero questo In breve Avremmo Una moltitudine Sto tremando I satanisti I sacrileghi I fattucchieri Ma è anche lacerato Da queste anime geride Che non avanzano per nulla Nel cammino della virtù E della perfezione Anzi Indietreggiano E a poco a poco Deviano Dal giusto Cammino Oh che tristezza Cari simi fratelli e sorelle Vedere che anime Che quotidianamente Si nutrono Invece di crescere Spiritualmente Diventano sempre più fredde Il loro cuore Sempre più indurito E le loro virtù Diminuiscono Di giorno in giorno I loro peccati Aumentano Come la polvere Della terra E invece di fare Grande tesoro Di aver potuto Ricevere Gesù Nel loro cuore Attraverso la santa comunione Di aver potuto stare Dinanzi a lui Nel santissimo sacramento Esposto solennemente Queste anime Diventano sempre Più gelide E arrischiano Di perdere Anche la grazia minima Necessaria Per la salvezza Ripara Chiede Gesù Alla beata Alla beata Alexandrina Questa freddezza Ripara Questa freddezza Dammi Il tuo amore Al posto loro Ecco carissimi fratelli E sorelle Amiamo Cristo Nell'eucaristia Adoriamolo Crediamo profondamente A questa sua divina presenza Testimoniata Da decine e decine Di miracoli Eucaristici Su tutta la faccia Della terra Ordinari Meravigliosi Diamo il nostro cuore Al cuore di Cristo Per mezzo del cuore Immacolato di Maria Ed entriamo Nel tabernacolo Ardente Del cuore Del divino Redentore Per essere Anche noi Infiammati Del suo divino amore Affinché Questa fiamma Viva di amore Che si accende Nel nostro cuore Non si spenga Mai più Né nel tempo Né tantomeno Per l'eternità Invita tutti A venire Al mio tabernacolo Con purezza Con amore Scrivi E io voglio Che si predichi E si accenda Nelle anime La devozione Verso i tabernacoli Dì al tuo padre Spirituale Che non indugi A diffondere Per il mondo Ciò che ho detto Della mia Eucaristia Non vi è altro Rimedio E da lì Che vengono Gli aiuti Saldi Per sostenere La giustizia Divina Ecco carissimi Dunque diffondiamo Chiediamo ai sacerdoti Che lasciano aperte Le chiese Che espongono Spesso solennemente Il santissimo sacramento Anzi Chiediamolo Direttamente Ai nostri Amati pastori Ai vescovi Che hanno Una immensa Responsabilità Dinanzi a Dio E al suo popolo Dinanzi Alle anime Immortali Che devono Condurre Verso l'eternità Che si diffonda In tutte le diocesi Del mondo L'adorazione Di Gesù Dentro i tabernacoli E che ci siano Tante chiese Dove Il santissimo Sacramento Si è esposto Giorno E notte E notte 24 ore su 24 Dove le anime Si avvicendano Per augurare Profondamente Il Signore Anche nel profondo Della notte Dove Egli Spesso dai suoi nemici Viene oltraggiato Viene oltraggiato Offeso Spaventosamente E arriso E reso Oggetto Di azioni Blasfeme E sacrile Che ci siano Anime Adoratrici Che anche Nel cuore Della notte Lo consolino Come lo consolava La madre santa Quando Gesù Era chiuso Nella prigione Sotterranea Dei giudei Non vi è altro Rimedio E da lì Che vengono Gli aiuti saldi Per sostenere La giustizia divina Questo è il tempo Della misericordia Ma ormai La clissidra Santa Si sta Vuotando E giungerà Il tempo Della divina giustizia Andiamo oggi Ai piedi di Gesù Imploriamo oggi La sua infinita misericordia Poi Poi Non ci sarà più Tempo Poi Non si potrà più Tornare indietro Poi Il braccio di Dio Non sarà più Sostenuto E si abbatterà Pesantemente Su un'umanità Sacrilega Il santo padre Dio Il santo padre di ordine A tutto il mondo cattolico Che io regni Nei miei tabernacoli Ma in mezzo a zelo E amore Sto qui nel tabernacolo Solo per amore Gli uomini non comprendono Questo amore Sto qui per essere Alimento E vita Gli uomini Parla loro La nostra vita Lavorativa Il nostro impegno Per il bene comune Tutta la nostra esistenza Ha bisogno di nutrirsi Del Cristo eucaristico Senza di Lui Tutto langue Tutto amore Tutto ritorna Alla ponte Fa che io sia amato Da tutti Nel mio Sacramento D'amore Il maggiore Dei miei Sacramenti Il maggior Miraco Della mia Sapienza Figlia mia Fa Che io sia amato Consolato E riparato Nella mia Eucaristia Fa sapere In mio nome Che a quanti Faranno bene La santa comunione Con sincera Umiltà Pervore E amore Per i primi Sei giovedì Consecutivi E passeranno Un'ora Di adorazione Davanti Al mio Tabernacolo In intima Unione Con me Prometto Il cielo Quale Meravigliosa Promessa E il Signore Ci ha dato Chi farà bene La santa comunione Con sincera Umiltà Pervore E amore Per i primi Sei giovedì Consecutivi E passerà E passerà Un'ora Di adorazione Davanti Al tabernacolo Di Cristo In intima Unione Con Lui Gesù Ha quest'anima Promette Il cielo Il paradiso L'eternità La gloria Sei giorni Pensate Per ottenere La gloria La gloria Diciamolo Andiamo Da Gesù Riceviamolo Con fervore E con amore Adoriamolo Per sei giorni Consecutivi Riceveremo La corona Della gloria Perché Cristo Mantiene Sempre Le sue Divine Promesse Parla Dell'Eucaristia Che è prova Di amore Infinito Che è l'alimento Delle anime Dì alle anime Che mi amano Che vivano Unite a me Durante Il loro Lavoro Nelle loro Case Sia di giorno Che di notte Si inginocchino Spesso In spirito E a pochino Dicano Gesù Ti adoro In ogni luogo Dove abiti Sacramentato Ti faccio compagnia Per coloro Che ti disprezzano Ti amo Per coloro Che non ti amano Ti do sollievo Per coloro Che ti offrendo Gesù Vieni Nel mio cuore Facciamolo adesso Carissimi fratelli E sorelle Questo Esercizio Di amore In quest'istante Rechiamoci Lì Dove Cristo Donato Quella chiesa Gelida E umida Dove Cristo È più disonorato Dove le sacre specie Vengono trascurate E a volte Vengono lasciate A moffire Dove il Signore Viene vilipeso Dove non si fa La riverenza Ginocchiandosi Davanti a Lui Dove non va mai Nessuna anima Ad adorarlo Dove non viene mai Esposto Sacramentalmente Ecco In quest'istante Andiamo lì Dove i frammenti Eucaristici Cadono in abbondanza Sul pavimento E vengono calpestati Da coloro Che lo dovrebbero onorare Grandemente Dove Gesù Viene ricevuto Con comunioni Sacre chileghe In stato Di peccato Mortale Andiamo Nei piedi Di questi Dalbernacoli Pieghiamo Le ginocchia E poi Poggiamo La nostra Testa Fino A terra Dicendo Signore Io Ti adoro Profondamente Ti amo Con tutto il mio cuore Ti esalto Con tutta La mia anima Ti adoro Nella profondità Del mio spirito Riparo Tutti Gli oltraggi E i peccati Contro Il tuo Santissimo Corpo E sangue E dichiero In quest'istante Vieni Nel mio cuore Affinché Io possa Vivere di te Con te Tu in me E Dio In te E insieme Fusi In questa Comunione Di amore Possiamo portare Nel mondo La luce Della grazia Lo splendore Della verità La luminosità Della speranza E il fuoco Ardente Della tua Divina carita Vieni Signore Gesù Nel mio cuore Amen Questi momenti Saranno per me Continua il Signore Di grande gioia E consolazione Le anime Ligna mia Parla loro del rosario E dell'Eucaristia E il rosario E il rosario E il rosario E l'Eucaristia E il mio corpo E il mio sangue Grazie Signore Gesù Per questi Fondi E ferrenti Inviti di amore Che ci rivolgi E che non li dimentichiamo E che possiamo Metterli in pratica Così come Non li dimenticò E li mise E in pratica La tua Pedelissima Serva E sposa La beata L'Eccandrina Maria D'Acosta E ora Cari Signore E sorelle Facciamo un momento Di preghiera E vi do la Santa benedizione Sacerdotale Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Padre nostro Che sei nei Cieli Sia santificato Il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta La tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimetti a noi I nostri debiti Come noi Li rimettiamo Ai nostri debitori E non ci indurre In tentazione Ma liberaci Dal male Ave o Maria Piena di grazia Il Signore È con te Tu sei Benedetta Fra le donne E benedetto Il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi Peccatori Adesso E nell'ora Della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era Il principio Ora e sempre E nei secoli Dei secoli Amen Angelo di Dio Che sei il mio custode Illumina Custodisci Reggi Govername Che ti fui affidato Dalla pietà celeste Amen L'eterno riposo Dona loro Signore E splenda Ad essi La luce Perpetua Riposen in pace Amen O glorioso San Michele Arcangelo Principe Delle milizie celesti Difendici Nella lotta Sii il nostro aiuto Contro 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 le insidie E la malvagità Del demonio Il Dio Il Dio lo domini Supplichevoli Te lo chiediamo E tu Col divino potere Incatene nell'inferno Satana E gli altri spiriti maligni Che vanno pagando Per il mondo A perdizione delle anime Amen Nostri santi protettori Pregate per noi Il Signore E sia con voi E per intercessione Del cuore Immacolato di Maria Di San Giuseppe Di San Michele Arcangelo Dalla Beata All'extrandrina Maria da Costa Di tutti gli angeli Santi E delle sante anime Del purgatorio Vi benedica Dio Onnipotente Padre E figlio E Spirito Santo Amen Benediciamo Il Signore Rendiamo Grazie a Dio Essendo la benedizione Anche a coloro Che l'ascolteranno Inoltre Signore Gesù Le mani tue Piagate Stendi su me Con il tuo grande amore Tu che mi hai redento Morendo sulla croce Passa e guarisci Come in Galileo Talitaku Io ti guarisco Talitaku Io ti risamo Talitaku Sono qui per te Sono qui per te Rialzati ancora Talitaku Io ti guarisco Talitaku Io ti risamo Talitaku Talitaku Sono qui per te Rialzati ancora Talitaku Talitaku Non guardare il mio peccato Ti prego, oh Signore Passare e perdonare Come in canilea Tali taku Io ti guarisco Tali taku Io ti guarisco Tali taku Sono qui per te E sempre prima Alzati al cuore Tali taku Io ti guarisco Tali taku Io ti guarisco Io ti guarisco Tali taku Sono qui per te Rialzati ancora Signore E sempre libera Come in canilea Tali taku Tali taku Sono qui per te Sono qui per te Tengo Tali tak per te Tali i Tali tak per te E le Tali i